Allora scusate sono le 17.43 del 19 ottobre, io sono Simona Bernabei e diamo inizio a questo nostro webinar di riavvio delle attività dopo la pausa estiva. Sto iniziando a registrare questa sessione di webinar in modo tale che per chi non fosse potuto intervenire ci sarà la possibilità di riascoltare quello che diremo in un secondo tempo. Dunque noi siamo il gruppo toscano di Twinning, siamo questa sera presenti Simone Bionda e Annalisa Di Piero che sono due ambasciatori Twinning e entrambi insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, io sono Simona Bernabei e anch'io insegno in una scuola superiore, però questa sera sono qui per coordinare questo webinar e il mio ruolo è quello di referente regionale di Twinning, pedagogico naturalmente perché il Twinning vede due figure di referente per ogni regione, uno è il referente pedagogico che è un docente e uno è il referente istituzionale che lavora per l'USR Toscana. Questa sera noi parleremo di strumenti essenzialmente di strategie per un rientro a scuola con i progetti Twinning. Prima di dare la parola a Simone che inizierà questa prima parte e poi daremo la parola anche ad Annalisa in una seconda parte, vorrei un po' presentarvi le nostre attività, noi come gruppo toscano organizziamo delle attività in presenza e delle attività online, voi sapete per chi, naturalmente voi che partecipate a questo webinar siete tutti iscritti a dei Twinning, sarebbe poi interessante capire se siete dei neo iscritti, se siete degli iscritti da diversi anni, che tipo di esperienza avete e per questo motivo poi lascerei uno spazio per le domande, tra l'altro nel frattempo vi metto qui il link nella chat, vi metto il link al file delle domande in modo tale che voi possiate farci tutte le domande che riteniate utili, interessanti. Dicevo le nostre attività, noi siamo da qui alla metà di novembre impegnati in varie zone della Toscana, chiaramente noi ci occupiamo delle attività riferite alla regione toscana, su ogni regione italiana esiste un gruppo, ciascuna regione italiana quindi ha un gruppo di ambasciatori che lavorano per diffondere Twinning, quindi organizzano seminari, organizzano workshop, organizzano webinar e su vari temi e rivolti a vari indirizzi e vari livelli di scuola, quindi non necessariamente rivolti ad uno all'altro e assolutamente non necessariamente rivolti come voi sapete ai docenti di lingua perché sì è vero molti di noi sono anche docenti di lingua però sicuramente conoscere la lingua straniera un po' ma non necessariamente ad un livello mi rivolgo per esempio a tutti i docenti di discipline non linguistiche che sono sulla piattaforma e fanno progetti Twinning, non è necessario essere insegnanti di lingua, anzi la possibilità di lavorare con docenti di altre nazioni e anche italiani se per questo, ma di altre nazioni soprattutto avendo una lingua comune seppur non a un livello proficiency non crea nessun tipo di problema, anzi è un incentivo, può essere una motivazione anche nel caso dei docenti che si occupano di discipline non linguistiche quindi magari si trovino a lavorare un po' così sul CLIL per esempio in modo artigianale potrebbero utilizzare Twinning anche per sviluppare questa competenza o per automotivarsi. Quindi dicevo riprendiamo il discorso degli eventi, poi lascerei la palla, darei il microfono a loro, noi ci vedremo nel mese di ottobre quasi finito nel mese di novembre noi abbiamo un appuntamento, vari appuntamenti in presenza dicevo uno è l'appuntamento del 2 novembre al liceo montale di Pontedera, il pomeriggio, uno è il 10 novembre a Prato per tutta la giornata quindi l'evento di Pontedera è un evento provinciale, l'evento di Prato è regionale tutto il giorno e l'ultimo che conclude la stagione Twinning per noi è il seminario regionale del 14 novembre a Grosseto. scusate ho dimenticato di dirvi che a Prato il seminario si svolgerà presso il liceo Copernico e a Grosseto presso il liceo Antonio Rosmini. Per quello che riguarda invece i webinar abbiamo tre appuntamenti che sono il 9, il 13 e il 15 novembre e renderemo, comunicheremo programmi e orari sul profilo Facebook del gruppo Twinning Toscana e quindi anche naturalmente l'ufficio scolastico regionale renderà noto e poi ci sarà il calendario sul sito Twinning. Quindi insomma qualora voleste partecipare soprattutto ai webinar perché non so le nostre amiche che si sono collegate e da che parte d'Italia provengano. Vedo che ci sono anche alcune amiche straniere e spero che le amiche straniere comprendano l'italiano e comunque magari mentre Simone parlerà io in chat proverò a comunicare anche con loro un po' in inglese. Dunque per adesso io non vorrei dire altro, non vorrei rubare tempo a Simone, anzi chiederei a Simone di intervenire, di iniziare lui, di condividere. Ok, va bene. Ti cedo la parola Simo. Sì, va bene. Allora, vabbè appaio brevemente solo per salutare. Buonasera a tutti. Io sono appunto come dice Simona, sono Simone Bionda, sono ambasciatore Twinning per la Toscana, uno degli ambasciatori e questa sera presenterò una piccola cosa relativa alla Flipped Classroom, alla classe capovolta e a come questa possa essere utilizzata grazie ai Twinning, con l'aiuto di Twinning. Tolgo la webcam che non serve, anzi, e passo invece alla presentazione. che mi è decisamente più utile. Recupero il file e arrivo. Scusate un momento. Prima... Abbiamo provato e c'era. Eccoci. Benissimo. Io vedo solo la mia presentazione, quindi se ci fossero domande, prego Simona di scrivermele. Ecco, le vedo sulla chat, quindi mi appare la chat, quindi posso... potete fermarmi, chiedere durante la spiegazione e almeno cerchiamo di chiarire subito eventuali dubbi. Bene, non so quale sia il livello di ognuno di voi di conoscenza ed uso del digitale in classe, ma indipendentemente da quello, se siete qua questa sera, se siete collegati sulla piattaforma, siete i Twinners, sicuramente siete interessati da questo aspetto e volete utilizzarlo nella didattica. Ecco, a tale proposito, sicuramente la flipped classroom, come diciamo in italiano la classe rovesciata, è una metodologia di lavoro che si usa sempre, in maniera sempre maggiore negli ultimi anni. c'è chi dice che stia diventando in realtà un po' di moda, ma sicuramente se anche fosse sarebbe una conferma proprio del fatto che in realtà sia una possibilità per lavorare che funzioni effettivamente nella didattica quotidiana. Le riserve, i dubbi che alcuni colleghi hanno nei confronti della flipped classroom stanno proprio nel fatto che si ritenga necessario avere delle competenze digitali che non tutti abbiamo in realtà. Quindi è interessante vedere come da questo punto di vista i Twinning ci può eliminare molti problemi e ci può aiutare. Seguendo questa breve presentazione vi renderete conto che molti di voi praticano già qualcosa di simile alla flipped classroom, anche magari senza rendersene pienamente conto, seguendo una didattica di project based learning, facendo i progetti, organizzando progetti Twinning con le proprie classi. Allora una brevissima introduzione teorica a vedere perché e cos'è e come funziona. Allora è una pratica didattica che mette insieme più metodologie e che nasce a scuola, non arriva dall'università, nasce dalla scuola, da una high school americana, da due insegnanti che ho inserito qua nella foto, sono insegnanti di materie scientifiche, chimica e scienze che ormai più di dieci anni fa, in un periodo in cui il numero di assenza dei propri allievi ha raggiunto livelli abbastanza preoccupanti e in un momento in cui il programma invece aveva bisogno di proseguire con un ritmo sostenuto, decisero di provare a caricare sul sito della scuola un video con un esperimento scientifico che i ragazzi dovevano imparare a ripresentare in classe, quindi la presentazione teorica dell'esperimento. La cosa funzionò e non solo i loro studenti riportarono in classe ciò che avevano visto in un video a casa, come se avessero imparato insieme agli insegnanti, ma la scuola stessa si rese conto che il numero di visualizzazioni registrato dal sito era decisamente superiore al numero degli studenti per cui era stato studiato, di conseguenza si resero conto che in realtà il bisogno di un'attività di questo genere era decisamente superiore a quanto previsto, erano molti gli studenti della scuola che avevano bisogno di rivedere la spiegazione, sentirla magari da un altro insegnante spiegata con parole diverse, a volte basta poco per aprire nuove prospettive agli studenti. È cambiato qualcosa nella didattica sicuramente, la Flipped rappresenta una risorsa molto valida e spaventa ancora alcuni colleghi invece c'è più legati alle metodologie di lavoro tipiche, classiche. In realtà sono cambiate molte cose e quello che eravamo abituati a vedere, il ruolo dell'insegnante che abbiamo qua, detentore del sapere che passa ad una classe di alunni seduta, ordinata, con la mano alzata e il libro aperto, ormai non c'è più, penso che pochi di noi incontrino realtà di questo genere. Spesso i nostri studenti sono distratti, sono stanchi o annoiati, hanno effettivamente, trascorrono molte ore di lavoro in classe, quindi li troviamo spesso a fine mattinata veramente provati, ma non solo a fine mattinata. Inoltre c'è il problema non problema, lo definisco così, delle fonti di distrazione, cioè del famoso cellulare vietato in molte scuole, sdoganato nuovamente dal ministro poche settimane fa, che suggerisce di usarlo perché se ne faccia a buon uso, benissimo, noi i twinners lo facciamo, sappiamo che non è niente di nuovo. Sono cambiati gli alunni, siamo cambiati anche noi però, perché rispetto agli anni precedenti gli insegnanti sono sempre nella necessità di trovarsi di fronte a situazioni nuove, difficili da affrontare, di fronte a una, a volte in molti casi, una poca preparazione rispetto alle competenze digitali che ci vengono richieste, che in realtà spesso sono sproporzionate rispetto alla reale natività digitale dei nostri alunni, chiamiamola così. Inoltre c'è il problema del sovraccarico di lavoro che abbiamo, lo vediamo in questo periodo, le riunioni, la documentazione, la programmazione, insomma effettivamente anche pensare di preparare materiale, di aggiungerci da soli del lavoro per poter creare delle lezioni nuove può effettivamente rallentare o spaventare almeno in parte. Anche in questo vedremo che i twinning ci aiuta perché ci permette di svolgere la gran parte del lavoro in classe con gli alunni, anzi di farlo svolgere a loro che è la cosa più utile e più interessante. Il punto di partenza che ci spinge ad utilizzare la Flip, chi la usa e che ci aiuta con i twinning nell'attività didattica quotidiana è proprio il fatto che non c'è una classe, non ci sia una classe uguale all'altra. Ci sono classi numerose contenute nel numero, ci sono quelle con gli alunni più piccoli, difficili da gestire e quelle invece con alunni quasi adulti o che vanno all'università. Quindi l'ideale sarebbe poter entrare in classe non con lo stesso libro d'inglese dal primo anno all'ultimo indipendentemente dalla scuola in cui si entri, sto pensando alle superiori ma vale anche per le medie, ma che si potesse creare appunto quello che indico lì come l'abito su misura per la classe in questione. Ecco, il bello della Flip Classroom è che si basa proprio sull'idea fondamentale del creare quest'abito su misura per la nostra classe, perché in base alle esigenze degli alunni, in base alle loro competenze, alle loro possibilità, possiamo creare il materiale che serve per lavorare. L'idea di fondo della classe capovolta, della Flip Classroom consiste in una inversione dei luoghi di lavoro. Si lascia da parte la classica lezione frontale, la spiegazione in classe dell'argomento, come si fa normalmente, seguita dalla seconda fase in cui i ragazzi da soli a casa svolgono i compiti e studiano la lezione e una terza fase in cui il giorno successivo, la lezione successiva in classe, si correggono questi esercizi. Talvolta capita che i ragazzi da soli nello svolgimento dei compiti a casa si trovino di fronte a problemi che non sanno affrontare e che spesso decidono o di copiare il compito da qualcun altro, o farselo passare tramite Whatsapp, quindi senza raggiungere le competenze, gli obiettivi che c'eravamo posti, oppure semplicemente chiudendo il libro e rinunciando allo svolgimento del compito, rimandando poi il tutto al giorno dopo. Questa inversione invece prevede un lavoro di tipo diverso. Il lavoro di spiegazione che prima veniva in classe avviene a casa. Gli alunni in autonomia studiano un video, guardano un video, lo ascoltano, lo possono vedere più volte, stoppare, bloccare in caso di bisogno di prendere appunti, di crearsi una mappa concettuale, quindi questo può aiutare anche gli studenti con DSA o con bisogni educativi speciali che da soli magari perdono quel timore o vergogna talvolta di chiedere di rispiegare parti della spiegazione. A casa possono gestire il video secondo le proprie necessità e quindi creare effettivamente quelle mappe che poi serviranno nel momento in cui dovranno restituire i contenuti appresi. Quindi la spiegazione avviene a casa, con i tempi dell'alunno. Una spiegazione breve, coincisa, chiaramente non mezz'ora di video, sono video contenuti che esprimono i concetti principali. In un secondo momento in classe invece si svolgono gli esercizi. Ecco, questo è il momento più importante perché gli alunni non sono soli a svolgere il compito, discutono, se hanno dubbi possono chiedere all'insegnante che a quel punto è fra di loro, svolge la funzione di tutor, può guidarli sulla strada corretta per sviluppare il compito, per giungere alla soluzione di eventuali problemi. Come si vede nella foto che ho scelto, in genere l'attività in classe prevede un lavoro di cooperative learning, proprio per puntare sull'apprendimento tra pari e anche sulla valutazione tra pari, perché è una fonte di crescita notevole di competenze, fonte di competenze anche metacognitive che si fanno di giorno in giorno più importanti. Quindi parlare di cooperative learning e parlare di project based learning per noi, i tweeners, in fondo non è nulla di nuovo perché quando facciamo un progetto e-tweening sempre prevediamo di dividere il lavoro tra i nostri allievi in gruppi o almeno nella maggior parte dei casi e soprattutto parlare di project based learning e parlare di tweening è la stessa cosa, creiamo dei progetti, ne delineiamo la struttura, la programmiamo, la correggiamo in corso d'opera con i nostri studenti in base alle loro necessità, in base alle necessità didattiche che abbiamo e poi le valutiamo, le valutiamo insieme a loro, quindi si riesce ad arrivare ad avere dei prodotti finiti, spesso come sappiamo visuali e che portano risultati che piacciono ai ragazzi, che li soddisfano, che li interessano. I vantaggi del cooperative learning sono molti, effettivamente in classe, quindi il tweening porta molti vantaggi, questi li riconosciamo al volo, i migliori risultati degli studenti e chiaramente raggiungere un obiettivo da solo, raggiungerlo con compagni di classe che mi motivano, che mi aiutano e mi forniscono dei tools per raggiungere determinati obiettivi, è un percorso differente. Le relazioni interpersonali ovviamente migliorano perché nel momento in cui si lavora in gruppi e si è costretti, uso il termine costretti, ma ha poi un senso positivo, a lavorare insieme per ottenere un risultato, a volte questo genere di attività può permettere anche di amalgamare classi che non sono sempre molto coese normalmente. Questo porta ad un maggior benessere psicologico, questo quindi un ambiente di classe più piacevole, più rilassato e pronto, preparato a ripetere esperienze poi di lavoro cooperativo. Gli elementi che rendono la cooperazione efficace, questi sono importanti perché sono, ripeto, gli spessi che ci servono quando partiamo con un progetto, sono l'interdipendenza positiva che si crea, come sappiamo nell'attività di cooperative learning, l'interdipendenza positiva è un elemento fondamentale perché se c'è da subito, dall'inizio, se è insita negli istinti della classe per le loro caratteristiche personali, bene, permette di raggiungere ottimi risultati e di sfruttare al massimo le potenzialità dei ragazzi. Se è bassa all'inizio del progetto è sicuramente un elemento sul quale si può lavorare invece proprio grazie al cooperative learning, alla condivisione ad esempio di problemi e alla necessità di trovare soluzioni a questi. L'altro elemento importante è appunto l'interazione costruttiva che si viene a creare. Imparo, apprendo, svolgo un compito in modo positivo e ricevendo un feedback positivo fornisco automaticamente un esempio a te che magari invece non sei riuscito. Quindi di nuovo l'interazione costruttiva è molto collegata al concetto di interdipendenza positiva. Si lavora molto sulla responsabilità, chiaramente ciò dipende dall'età dei nostri studenti, però è chiaro che con l'aumento, con appunto la maggiore età dei ragazzi, con le tassi più grandi, la responsabilità può essere maggiore, si può assegnare compiti in autonomia sempre di entità sempre maggiore con la sicurezza di ottenere poi risultati interessanti e che funzionino a livello di progetto. E sempre collegato all'interdipendenza, all'interazione, l'attuazione di abilità sociali all'interno del gruppo. Insomma, il progetto ci permette di far legare la classe e di farla affacciare anche all'esterno, come sappiamo. In ultimo, ma non per ultimo, questa è un po' una mia sensazione a livello personale, la valutazione del progetto che permette e favorisce una autovalutazione di gruppo, quindi la condivisione della valutazione che va a far parte poi del voto proprio dei nostri alunni. Il progetto, i twinning, entra a far parte della valutazione. Come dicevo, i twinning, eccolo qua anche lui a capovolto, può aiutarmi a capovolgere le lezioni da un punto di vista pratico, tecnico, in maniera ottimale. Uno degli esempi che ho fatto prima, facendo riferimento ai colleghi che sono ancora un po' resti nei confronti dell'attività della Flip, riguarda proprio le scarse competenze digitali che alcuni di loro pensano di avere. Cioè pensiamo all'utilizzo della piattaforma e twinning, ci rendiamo conto che questa effettivamente ci elimina molti problemi, ripercorrendo il percorso che ho indicato precedentemente e immaginiamo l'utilizzo appunto del video come lavoro autonomo da parte degli alunni. Quando si pratica Flip Classroom, classe capovolta, il materiale che preparo, il video che scelgo o eventualmente i documenti che decido di condividere possono essere inseriti sul Moodle, ad esempio il registro della scuola, oppure sul Moodle vero e proprio, però non sono piattaforme facilmente utilizzabili ad esempio dagli studenti più giovani. Pensiamo ad esempio al Dropbox, altro esempio, i più piccoli hanno problemi ad utilizzarlo. Si può creare ad esempio un sito personale con Google sites, con altre app. Anche in quel caso però c'è da tenere in conto che ciò che si pubblica è appunto, ciò che si inserisce sul sito è pubblico e non limitato all'utilizzo dei nostri studenti. Ci sono poi app come Edmodo che permette di creare classi oppure direttamente si può decidere di caricare il video su YouTube e di renderlo disponibile ai nostri studenti. Queste sono le opzioni principali, ma in realtà, come sappiamo, se andiamo a vedere il nostro e-tweening live nel nostro profilo, sappiamo che possiamo utilizzare il TwinSpace per fare la stessa cosa, cioè per inserire materiale che sia accessibile ai nostri alunni e solo a loro. Quindi possiamo anche scegliere di inserire materiale creato da altri alunni senza che questi magari vengare su pubblico, ad esempio su un blog o sul registro scolastico. Sappiamo che sul TwinSpace di ogni progetto abbiamo la possibilità di inserire pagine, che vediamo qua a sinistra, quindi documenti, perché effettivamente il video non è l'unica risorsa possibile. Possiamo decidere anche di dare un documento da studiare a gruppi a casa e sul quale lavorare in classe per svolgere un'attività di flip classroom. È un tipo di attività poco utilizzato, ma è una delle possibilità. Possiamo caricare immagini, pensiamo a una lezione di arte, a una lezione di... Simona ha prima fatto riferimento al fatto che anche molti docenti non di lingue usano i twinning, anzi un numero sempre maggiore direi, se penso a quelli che conosco, perché effettivamente è utilissimo per praticare attività di CLIL. Nel momento in cui si hanno progetti ad esempio di arte o di geografia dove le immagini hanno un ruolo importante, ecco la creazione ad esempio di un video o di uno screencast inserito sul TwinSpace permette di fornire del materiale interessante ai ragazzi. Sulla destra della slide vediamo ovviamente il video. Ecco, questi permettono effettivamente di inserire il materiale che è quello ideale per la flipped classroom. La cosa ottimale nei progetti twinning quando si riesce è quella di far creare alle varie classi video sulla piattaforma che vengono poi utilizzati dall'altra classe come materiale sul quale lavorare. Quindi l'insegnante può ad esempio preparare una sorta di questionario su un argomento che i propri alunni hanno visto spiegato da un video in inglese o nella lingua straniera dagli studenti che fanno parte del progetto all'estero. Allora, io sono passato direttamente a spiegare il TwinSpace, ecco la parte questa che appare al momento su questa slide, che è la parte riservata ad ogni progetto che viene creata per ogni progetto e che è quella che viene utilizzata dai vari gruppi per inserire il materiale, scambiare il materiale su quale si lavora. Come ho spiegato prima ci sono diverse tipologie di materiali che si possono inserire, documenti di vario tipo, cioè in vario formato, Word, Excel, qualunque cosa da quel punto di vista. Possiamo inserire fotografie, immagini e possiamo inserire video. Ovviamente questi materiali rappresentano la base dei nostri progetti, quindi possiamo inserire inizialmente il materiale che ci serve e su quale lavorare, ma nel corso del progetto possiamo utilizzare il TwinSpace come un portfolio, cioè man mano che produciamo materiale lo inseriamo e alla fine del progetto potremo seguire tutto il percorso che abbiamo seguito, potremo ricostruirlo. Questo perché la cosa più bella del progetto è proprio rendersi conto, giunti alla fine del percorso, di avere ottenuto il risultato che ci eravamo prefissati o magari diciamo di non esserci allontanati troppo dal risultato che ci eravamo prefissati. E soprattutto di avere un risultato che rimane, perché che si decida di avere come prodotto finale un video magari creato dalla sovrapposizione di video delle varie scuole che partecipano al progetto, o che sia magari un ebook, un libro elettronico. Le prime volte che sentivo parlare di libri elettronici partecipando ai progetti e-twinning ho pensato di essere finito nel posto sbagliato, quando ho sentito i colleghi dire creiamo un libro elettronico, il mio primo pensiero fu che io non sono all'altezza, stanno parlando di una cosa che non conosco. In realtà grazie a loro ho scoperto siti che creano praticamente il libro automaticamente, basta solo inserire ciò che chiedono la foto, il testo. La stessa cosa vale per i blog, la prima volta in cui un collega mi ha chiesto un blog mio, ho riso perché dicevo io non sono capace a gestirmi un blog autonomamente e anche in quel caso mi è stato indicato un sito per crearlo e ci si rende conto che è solo questione di avere il coraggio di buttarsi un pomeriggio e rendersi conto che in realtà tutto ciò che si mette si può cancellare e che molto facilmente si può creare veramente materiale interessante. Torno appunto a quanto stavo dicendo, il Queen Space è appunto lo spazio che abbiamo a disposizione per ogni progetto per inserire il materiale che ci serve. A questo mi ero collegato pensando che questo può essere utilizzato per inserire il materiale che gli studenti useranno autonomamente, vedranno a casa o vedranno in laboratorio, sul quale però lavoreranno prendendolo come base teorica su cui poi lavoreranno in gruppo, divisi in gruppo nel cooperative learning in classe con l'insegnante che ti aiuta a svolgere le attività richieste, che svolge appunto questa funzione di tutor, cambia il ruolo del docente, da docente vero e proprio quello che spiega cosa fare, sta tra i ragazzi e li aiuta a fare, si sposta da un gruppo all'altro se serve da una mano aiuta. Creare un video è un'attività che è in realtà semplice da fare, può essere molto utile, anzi in molti progetti, i twinning ormai creiamo video, noi i ragazzi in autonomia, sono cose che si possono fare facilmente, in genere tutti, anzi toglierei in genere, lo facciamo tutti sempre da quello che so, chiediamo ovviamente l'autorizzazione, la liberatoria da parte delle famiglie, però una cosa ecco che soprattutto per chi è nuovo è importante sottolineare, i twinning non è come il sito scolastico che tutti possono vedere, non è come youtube che tutti possono vedere, è una piattaforma chiusa, possono entrare solo gli insegnanti che tutti gli insegnanti che sono registrati e quando si registrano, voi lo siete, quindi lo sapete, devono indicare la scuola di servizio e loro possono inserire dei propri studenti come appunti che possono accedere, di conseguenza solo persone autorizzate possono mettere in mano, neanche possono vedere i materiali creati, quindi è molto sicuro, la privacy effettivamente è rispettata. Bene, come progettare un video? Per progettare un video e presentazioni i programmi sono molti, li indico soltanto perché secondo me dopo Annalisa ci parlerà approfonditamente di questo, lei è molto esperta in questo, c'è la possibilità di fare presentazioni per le classi che partecipano al progetto insieme a noi, presentazioni di vario tipo, posso presentare posso presentare la mia scuola, la zona in cui viviamo o direttamente se sono bravo posso anche andare su un livello più avanzato, possiamo partire direttamente con l'argomento del programma, del progetto, quindi bisogna parlare di un esperimento scientifico, parlare di letteratura, descrivere un quadro e quindi possiamo creare presentazioni come quelle con Paltoon, che è un modo veramente diverso rispetto al classico PowerPoint o Prezi, trasforma la presentazione con oggetti in movimento, quasi in un cartone animato se si vuole, quindi diventa molto divertente, molto piacevole per gli studenti. Altrimenti si può ricorrere di uno screencast, come sapete è poi la registrazione di ciò che accade sul nostro video, c'è la possibilità di scaricare un programma tipo Screencastify, questo è solo uno ma ce ne sono diversi, che si scarica sul computer, semplicissimo da utilizzare, fa apparire un tasto per la registrazione, uno per bloccare la registrazione, uno per rivederla e ci permette di registrarci mentre descriviamo ciò che facciamo vedere sullo schermo. Quindi una volta che abbiamo creato questa registrazione la possiamo passare agli alunni che la vedano e che di conseguenza hanno una lezione presentata su misura a casa nuovamente, con la possibilità, nuovamente mi ripeto, con la possibilità di fermarla se necessario, di prendere appunti, di seguire le proprie esigenze d'apprendimento. Il riferimento al bio del bring your own device è proprio riferito al fatto che uno dei dubbi che permangono sempre sta nel fatto che non tutte le scuole hanno una dotazione tecnologica adatta a svolgere questo tipo di attività con regolarità. Ma in realtà, appunto mi rifaccio forte dell'incitamento anche della ministra di un paio di settimane fa, usiamo questi tools, abbiamo la possibilità di portare i device a scuola, quindi bring your own device, hai lo smartphone che funziona, hai un tablet che puoi portare a scuola, bene portalo, ci colleghiamo e puoi lavorare da lì. C'è chi dice, gli studenti che non ce l'hanno si sentono svantaggiati, non è detto, non è vero, questa cosa può aiutarci anche come scusa a creare questo apprendimento cooperativo, a fare questi gruppi che possono essere anche solo coppie se il numero di device è discreto e far sì che debbano condividere uno strumento rispettandolo perché non è un qualcosa che potrebbe rovinarsi, non è di entrambi ma è solo di uno dei due o di una persona all'interno del gruppo, quindi aiuta anche competenze, lavorare sulle competenze di cittadinanza, di rispetto dell'altro. Altre possibilità per valutare l'avvenuta visualizzazione del video che è stato creato e che spesso io ad esempio uso con i miei alunni nei progetti tweening, perché a volte lo si scambia con gli alunni delle altre scuole, ho visto un messaggio, se ci sono domande fate pure, si possono creare domande di comprensione per i ragazzi utilizzando Kahoot che ormai conoscete quasi sicuramente, se vi capita di partecipare ultimamente a corsi di formazione o di aggiornamento vedo che spesso viene utilizzato sempre più spesso, viene usato anche in classe e così allo stesso modo funziona SoCreative che permette di creare una specie di gioco in cui i ragazzi con il proprio cellulare devono scegliere la risposta corretta ad una serie di domande, semplicemente cliccando sul colore del tasto prescelto, il gioco dà in automatico una serie di punteggi in base alla velocità, alla correttezza delle risposte, quindi che giochino individualmente o in gruppo, questo gioco permette di presentare in forma ludica quello che poi non è altro che un ripasso, ha fatto parecchie ultime ore con i ragazzi stanchi ad esempio e quindi poco concentrati a farli ripassare i verbi irregolari d'inglese ad esempio, cosa che normalmente li entusiasma ovviamente tantissimo, facendolo sotto forma di gioco, qual è la forma corretta della terza voce del verbo to sell? Ecco in questo modo fanno un ripasso forzato da un certo punto di vista ma che a loro diverte, anzi la tendenza è alla fine di ogni manche chiedere una ulteriore, che va bene perché tutto ripasso in più. La cosa bella è che spesso facciamo la ripetizione dello stesso test, la prima batteria di domande, si registrano i risultati e prima di andare a casa la rifacciamo per vedere la differenza, in modo che loro stessi si rendano conto che per solo un chilo di pochi minuti hanno iniziato a ricordare qualche verbo che prima invece avevano dimenticato, cioè il ripasso, così sotto forma ludica, permette di fissare poi le conoscenze. Bene, vado verso la fine del mio intervento, i risultati sono tanti, più tempo a disposizione in aula e sappiamo quanto sia per noi prezioso, se i ragazzi svolgono parte del lavoro a casa intendo. L'attività secondo la didattica per competenze, il diverso ruolo del docente, anche questo è molto importante. Attenzione, non è un peggioramento, un eventuale cambiamento del ruolo del docente, può essere visto come un miglioramento perché talvolta il rapporto banchi-cattedra è una separazione che viene poi colmata semplicemente con il lavoro di partecipazione al gruppo da parte dell'insegnante. Utilizzo abituale dell'apprendimento cooperativo, quindi con le conseguenze che porta a livello sociale della classe, possibilità di potenziamento e recupero, anche questa è una cosa che il progetto Twinning mi permette di fare, non sempre. Però nel fare i gruppi spesso mi capita di magari scegliere gli alunni più deboli, soprattutto che hanno bisogno di rinforzo linguistico, ad esempio chiedendo loro di occuparsi della creazione delle didascalie delle immagini. Sembra una cosa molto semplice, in realtà loro devono utilizzare le loro competenze digitali e soprattutto lavorare su un concetto molto semplice di costruzione ripetuta di frasi poi molto semplice, soggetto verbo complemento. In questa foto gli alunni stanno visitando il castello della tale città, in questa foto stiamo spiegando ai turisti inglesi cosa vedere nella nostra città. È una cosa molto semplice che serve ad un lavoro di recupero eventuale per gli alunni più deboli. Nel contempo posso anche lavorare sul potenziamento per gruppi più bravi che possano permettersi autonomamente di ampliare il progetto preparando magari una presentazione direttamente in lingua su un argomento nuovo che poi comunque servirà come materiale anche per gli altri, quindi sarà comunque di aiuto all'intero gruppo. La valutazione è elemento importantissimo, questo sia per loro che per noi, lo dico sempre e non sono il primo a dirlo ovviamente, i lavori dei nostri alunni meritano sempre una valutazione, è il motivo per cui ci chiedono sempre, quando chiediamo di fare qualcosa, ma ci dà il voto, ma ci mette il voto? Sì, la risposta che dovremmo dare sempre è sì, perché se sono, come ho scritto, se sono tanto semplici da non meritare una valutazione, allora i ragazzi ragionano sul fatto che nemmeno meritano uno sforzo, vuol dire che è un'attività che ho dato tanto per tenerli occupati. teniamo presente che le attività in classe sono sempre applicazioni di conoscenze, competenze, quindi ci permettono di seguire i miglioramenti, l'evoluzione dell'apprendimento dei nostri studenti. Valutazione di un progetto, ecco, vale per il project based learning, vale per i progetti twinning, io personalmente lo faccio, uso le rubriche, spero che già le usiate, se no vi consiglio, proprio caldamente di cercare informazioni sulle rubriche, perché sono molto utili, sono tabelle con indicatori della valutazione, con appunto indicatori che valutiamo negli studenti, una indicazione dei livelli di dominio, quindi dall'insufficiente all'eccellente, oppure punti veri e propri, quindi ad esempio sviluppo del compito richiesto, presenza delle didascalie al di sotto delle foto, scelta di fotografie che rappresentano gli scorci principali della città, ecco, indico gli obiettivi che vorrei, proprio pratici, dal compito che gli richiedo in quel momento per il progetto, poi appunto inserisco nella rubrica, l'ultimo che vediamo qui nelle celle, una gradazione qualitativo-descrittiva, cioè le didascalie alle immagini sono complete, scritte in modo corretto ed esaustive, oppure sono complete, presentano alcuni errori e danno alcune indicazioni frammentarie, oppure non sono corrette, piene di errori e non danno le indicazioni richieste. Insomma questa gradazione delle definizioni e dei livelli di dominio ci permette di far sì che presentando la rubrica direttamente ai ragazzi, loro stessi siano in grado di autovalutarsi, di analizzarla e di autovalutarsi. Ci sono alcuni siti come Ruby Star che vi consiglio in inglese o in spagnolo, oppure si può fare direttamente con Google Forms, che permettono di costruire delle rubriche in maniera molto semplice. sapendo che a volte, soprattutto quando corro come in questo caso, non mi spiego sempre benissimo, non vorrei che qualcuno si spaventasse all'idea della rubrica. Questo è un esempio proprio per dire che si può utilizzare a qualunque livello. Pensiamo ai bimbi della primaria, abbiamo lavorato tutti, pensiamo ad un compito comune. Sì, mica tanto, no, decisamente no. Ci siamo ascoltati, positivo, non molto convinto, decisamente negativo. Ci siamo divertiti. Ecco, questo è un esempio molto semplice. Poi possono essere anche molto più impegnative in base ai nostri studenti. La rubrica è importante, eccola qua, perché la usiamo anche noi insegnanti. Vi consiglio di cercare, perché sono molto interessanti, le rubrics, chiedo scusa, sono alla fine, le rubrics che vengono utilizzate per assegnare i quality label, i premi di qualità ai vari progetti che vengono creati. Come vedete, per ogni livello sono sei, mi pare, le pagine, quindi vi consiglio di cercare le altre. Questo è quello riferito all'innovazione pedagogica. Ci sono le descrizioni, not very good, acceptable, good, very good, excellent, con i punteggi, con i grading relativi e con la spiegazione che ci permette di capire quale lavoro sia davvero not very good, acceptable, eccetera. Quindi possono essere molto utili. Soprattutto se le abbiamo già ora, al momento in cui iniziamo un progetto, ci permettono di seguirlo nella sua fase di sviluppo e di far sì che ci siano tutti gli elementi che ci servono ad ottenere un excellent, ed avere quasi la certezza di avere un quality label, che vi auguro di ottenere con i vostri progetti. Sono alla fine, ringrazio e lascio la parola a Simona o a Annalisa. Spero di non essere stato troppo lungo. È stata veramente molto interessante e ci chiedeva uno dei partecipanti se sarà possibile condividere queste slide. Io penso che se tu sei d'accordo si possano decisamente condividere. Vi ricordo che abbiamo un file, il cui link io ho messo diverse volte, adesso darò la parola ad Annalisa e lo renderò. Nessun problema. Se avete voglia di lasciare dei quesiti a cui possiamo rispondere anche con calma, se avete bisogno di consigli, sia Annalisa che Simone, che io possiamo, così con il nostro punto di vista e la nostra esperienza, darvi delle dritte. Per esempio c'era un collega che ha detto che mi piacerebbe molto fare un progetto, ma non so da che parte cominciare perché sono andato sulla piattaforma e ho visto che ci sono tante proposte. Benissimo, parliamone, noi siamo qui per questo. Anzi, se tra i presenti ci sono anche dei toscani o delle persone di regioni vicine, tenete d'occhio i nostri eventi perché ci piacerebbe anche molto conoscervi e avervi fra di noi. Io adesso cederei la parola a dare la parola ad Annalisa, adesso proviamo a condividere. Simone, tu puoi finire la condivisione per favore, così proviamo a... Dovresti fare... se tu fai stop sharing, io provo a condividere invece la... Ok, perfetto, grazie. Provo a... Buonasera, mi sentite. Eccoci, allora aspetta perché qui adesso arriva... Dunque, share my screen. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. A fare qualcosa, io non capisco perché... Dunque, Annalisa, ti vediamo... Io direi, facciamo una cosa, mentre io provo a condividere il tuo materiale, se tu vuoi presentarti, io spero di riuscire nel mentre a caricare la tua presentazione, spero di riuscirci perché abbiamo avuto qualche difficoltà con la condivisione dei file, ma insomma ci proviamo. Se non ci riusciamo, in qualche modo facciamo. Io intanto lavoro. Mi sentite? Buonasera. Benissimo, forte e chiaro. Perfetto, grazie. Allora, vediamo se riusciamo a condividere... ... Allora, vediamo se riusciamo a condividere... ... Allora, vediamo se riusciamo a condividere... ... 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 Non so se Simone è riuscita a condividere il mio lavoro oppure no. Ok. Allora, se siete riusciti a entrare nei miei presenti, possiamo parlare di quali sono i tools che si possono adoperare per iniziare un buon progetto in England. Io mi sento con l'eco, non capisco mai se siete anormale o sentite l'eco anche voi della mia voce? Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, io inizio. Qui c'è un problema. Oggi purtroppo mi dispiace, sono mortificata, ma c'è un problema con il mio computer. Allora, se siete riusciti a vedere il mio prenti o se Simona lo può condividere, io vi vorrei parlare di quali sono i tools da usare, applicazioni digitali da usare per un buon progetto e-tweening. Innanzitutto la cosa più importante è una buona programmazione delle attività. Quando si pianifica, quando ci si mette d'accordo, quando ci si incontra con i partners, io intendo incontrarsi in internet ovviamente, perché i partner possono essere stranieri o comunque lontani, per cui bisogna per forza incontrarsi tramite alcuni strumenti digitali e bisogna fare una buona programmazione delle attività da svolgere durante il progetto. È importante quindi che ci sia una buona comunicazione fra i partner, una buona collaborazione e che si pianifichi tutto il più possibile. Magari questo può essere un'attività un po' noiosa, però se si programma tutto bene inizialmente, poi il progetto va molto bene, diciamo va avanti quasi da solo. Allora, è importante anche che il progetto sia integrato da un punto di vista curriculare, cioè che sia, che faccia parte della nostra programmazione della classe. Per cui stabilire magari un'ora alla settimana in cui possiamo portare i nostri studenti in un laboratorio informatico oppure tramite sempre l'approccio del Bring Your Own Device, quindi adoperare il loro device, smartphone o tablet o computer, lavorare un'ora alla settimana in classe con gli studenti. È chiaro che gli studenti devono anche lavorare a casa per sviluppare il progetto, però è importante che questo lavoro sia fatto in classe anche con l'insegnante. Dopodiché, appunto, imparare a usare applicazioni, software e devo dire che i twinning, gli eventi, gli incontri che si possono fare tramite i twinning sono di grande aiuto per uno sviluppo professionale per noi docenti. Io ho iniziato con i twinning nel 2008, che praticamente ero all'oscuro dell'uso delle ICT nell'istruzione e ho imparato moltissimo, proprio sviluppando progetti di anno in anno, seguendo eventi online come questo, seguendo, partecipando a incontri nelle varie scuole, e quindi questo è molto importante. Dopodiché, ci vuole anche, è necessaria anche una valutazione del progetto, valutazione di come si sta sviluppando il progetto, valutazione del lavoro dei ragazzi, valutazione anche del nostro lavoro, del lavoro dei partner, insomma una valutazione globale. E poi, quello che forse è più importante di tutti, è anche sviluppare i progetti con divertimento, divertendosi. Questa è la cosa molto importante, perché se noi ci divertiamo, anche i nostri studenti si divertiranno. Se troviamo gioia nel progettare e nel mandare avanti un progetto e twinning. Allora, come si fa per prendere accordi con i docenti sullo svolgimento del progetto? Prendere accordi iniziali e anche poi dopo, man mano, durante lo svolgimento. Ci sono alcune applicazioni, come per esempio, quella più classica, più semplice, condividere un documento con Google Docs, per cui nel documento tutti quanti possono scrivere le loro idee, le loro proposte, si può anche commentare le idee e le proposte, oppure si può adoperare un programma che si chiama Meeting Words. Ho anche un altro programma che si chiama Today's Meet. Se avete il mio presi sotto mano, potete vedere anche l'icona di questi siti. Ora poi c'è un ultimo nuovo arrivato di queste applicazioni che si chiama Spiral, che è molto grazioso e serve anche per svolgere attività in classe con gli studenti di altro genere, come lezioni, valutazioni, quiz e varie cose. Dopo aver, quindi, essersi incontrati in internet con i partner, si possono fare anche delle videoconferenze con Skype o con Google Hangout. Si possono pianificare gli incontri o gli eventi con Doodle. Anche questa è un'applicazione molto simpatica per prendere accordi su vari appuntamenti che si possono prendere di incontri o di attività. Poi abbiamo invece il momento, entrando più nel progetto, abbiamo la presentazione dei partecipanti, cioè dei docenti e degli studenti. Questa presentazione si può fare adoperando un'applicazione che si chiama Padlet o un'applicazione che si chiama Voki o anche una nuova che si chiama Big Huge Labs dove si possono scrivere delle cards di presentazione. Dopo essersi presentati si può presentare la città, la scuola, la regione o la nazione di ogni partner. Quindi il primo momento di un progetto e-tweening è sempre quello della presentazione. Ci si presenta. Prima ci si presenta personalmente, tutti gli studenti si presentano personalmente, poi si presenta la città, la scuola, la regione o la nazione. Come si può fare questo? Si può fare con dei video, per esempio Windows Movie Maker o iMovie per chi ha il Mac, oppure si può usare l'editor di YouTube per creare dei video su YouTube che è la cosa anche più semplice. Si può usare un programma che si chiama Kizoa o un programma che si chiama FF Diaporama. Questi sono programmi che permettono di creare delle slideshow che poi diventano dei video veri e propri. Per quanto riguarda le presentazioni, bisogna dire ancora che si possono fare delle presentazioni con Prezi oppure con un programma che si chiama E-Maze con Powtoon come faceva vedere prima Simone o anche con ThinkLink. Peccato che non posso condividere il mio computer altrimenti vi avrei fatto vedere delle presentazioni con questi programmi. Vorrei sapere se mi state sentendo, se va tutto bene, se posso continuare. Benissimo, ti sentiamo benissimo. Io sto cercando di mettere tutte le slide che tu hai organizzato nella tua presentazione in Prezi. Se Simona riuscisse a condividere il mio Prezi sarebbe molto più semplice perché potreste vedere i nomi di tutti questi programmi. Ok, vado avanti. Allora, lavorando nella fase del lavoro proprio sul tema del progetto si può lavorare adoperando delle mappe concettuali oppure si possono fare dei brainstorming o anche delle nuvole di parole. Allora, per quanto riguarda le mappe concettuali ci sono ovviamente tanti programmi. Io vi dico quelli che ho adoperato io. Io ho adoperato Mindomo e ho anche un programma di mappe concettuali che si può condividere con altre persone, con altri utenti che si chiama Google. Poi abbiamo per il brainstorming invece si può usare l'Hunter Garden in cui si scrive una domanda e tutti i partecipanti possono dare la loro risposta e come un wall digitale, un muro digitale in cui si vedono tutte le risposte. E poi abbiamo le nuvole di parole. le nuvole di parole che si possono realizzare con un programma che si chiama Tagool o anche con uno che si chiama Wordle. Per quanto riguarda i quiz, se si vogliono introdurre dei quiz nel progetto, si può usare Hot Potatoes, Cout, che per ora va per la maggiore, quello più gradito dagli studenti, o anche Quizlet, o anche tanti altri come per esempio Quizmaker o ProProfs e chiaramente ognuno di questi programmi ha delle sue specificità. Bisogna provarli perché io ve li posso presentare, però l'unica cosa che poi vale veramente è aprire il programma, registrarsi e provare a fare una prova. poi è possibile fare delle registrazioni vocali, se c'è un progetto in cui si vuole fare parlare i ragazzi al di là di un video di YouTube si possono adoperare delle applicazioni che si chiamano come per esempio Vacaroo o Audacity o Spreaker queste sono tre applicazioni molto interessanti non sono difficili da usare Vacaroo è proprio istantaneo si 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 scrive questo questo programma e subito appena si apre la finestra del programma senza registrarsi si può direttamente registrare il proprio la propria voce il proprio discorso quindi è molto immediato è molto semplice da usare dopo le registrazioni vocali si possono creare dei poster online tramite un programma che si chiama Glogster i poster online sono molto graditi anche questi dai ragazzi perché sono molto accattivanti in quanto si possono adoperare immagini varie emoticons in movimento anche si possono caricare video si possono caricare documenti word si possono scrivere si può scrivere si possono mettere tantissime immagini ed è molto divertente è molto utile per per semplificare un lavoro una ricerca una ricerca o anche proprio il tema del progetto poi abbiamo anche degli magazine cioè dei giornali delle riviste online fra gli magazine quelli più adoperati sono Canva Calameo Issue e l'Adobe Spark perché sapete Adobe ha tante funzionalità e Adobe Spark è una di queste che permette di creare sia dei video sia dei post o anche proprio delle presentazioni e quindi di realizzare delle riviste online per creare dei questionari invece possiamo adoperare i moduli di Google o Survey Monkey che i questionari sono molto importanti come vi dicevo prima per valutare la partecipazione dei docenti degli studenti o anche per creare dei sondaggi se si vuole se nel progetto è stato previsto proprio questo aspetto della creazione di sondaggi allora io purtroppo ho finito nel senso che sono molto dispiaciuta di non potervi farvi condividere con voi il mio schermo dove avevo preparato anche delle attività collaborative proprio per mostrarvi farvi vedere farvi vedere dal vivo farvi quasi toccare diciamo questi strumenti spero per un prossimo webinar di risolvere il problema con il mio computer e quindi di poter realizzare un mio intervento più collaborativo con tutti voi se avete delle domande allora dunque intanto ti ringraziamo tantissimo perché ci hai dato degli spunti molto interessanti io mentre tu parlavi cercavo correndo contro il tempo di fare degli screenshot col telefono e copiare le foto della tua presentazione nel nel file di google nel google doc che avevo condiviso in precedenza e ti ringrazio tantissimo perché sebbene abbiamo avuto dei problemi tecnici comunque lo spunto è stato ricco interessante e sicuramente riprenderemo il discorso io vedo che il tempo è finito diciamo per il nostro webinar come ho detto in precedenza se avete delle curiosità delle domande specifiche per Simone bionda per analisa di pierro vi chiediamo la cortesia di lasciarle in coda o dove volete nel google doc magari mettendo il vostro nome e anche indicando in che regione vi trovate in modo tale che magari possiamo invitarvi direttamente se siete in toscana o vicino alla toscana ai nostri seminari oppure comunque rimanere in contatto con voi e fare un feedback su questo rispetto a questo webinar quindi ringrazio tantissimo Simone bionda e analisa perché insomma sono stati molto chiari con le loro presentazioni passerei loro la parola per un saluto finale e poi chiudo io velocemente allora Simone se puoi salutare sì saluto tutti spero di essere stato utile se ho dato spunti molto bene se ci sono domande mi aggiungo a Simona fatele e vi risponderemo grazie buona serata a tutti analisa se vuoi salutare anche tu grazie a voi per la pazienza ripeto mi dispiace di non aver potuto rendere un po' più allegro condiviso questo webinar alla prossima ci diamo appuntamento al prossimo webinar benissimo allora anche io ringrazio tutti di essere stati con noi le difficoltà tecniche sono insomma all'ordine del giorno d'altronde è divertente insomma anche tentare questo esperimento dell'online per noi perché è anche più facile riuscire a raggiungere persone più lontane quindi grazie davvero di nuovo a tutti quanti a presto e ripeto la registrazione sarà disponibile la metteremo anche su facebook Twinning Toscana contattateci su Twinning Toscana facebook oppure all'email e Twinning Toscana chiocciola gmail punto com se avete domande e oppure se avete richieste rispetto alla nostra attività di Twinning arrivederci e a presto grazie mille a tutti ciao a tutti